Buon di buona gente, sono Luigi in Artelusio e benvenuti a questo nuovo video, nuova video recensione e ritorniamo da quella che è ormai diventata un'ospite fissa in questi ultimi mesi, ovvero Alison Weir. Abbiamo concluso la sua saga sulle sei regine Tudor, però ho pensato dai approfittiamone e parliamo magari anche dei primi due romanzi che ci sono stati proposti qui in Italia scritti da lei, romanzi quindi che sono slegati dalla saga delle regine Tudor ma che rimangono attaccati appunto alla storia Tudor. Uno, il primo, quello di cui parleremo oggi, già lo avevo letto a suo tempo quando uscì e il secondo ancora dovevo recuperarlo e l'ho letto infatti dopo aver terminato la saga delle sei regine, ovvero il romanzo sulla giovinezza di Elisabetta, la regina Elisabetta prima, ovvero Lady Elisabetta, ma di quello parleremo poi in un altro video a parte. Oggi rimaniamo, ecco a voi, L'innocente di Alison Weir. Allora, avevo già accennato a questo romanzo a suo tempo un paio d'anni fa quando feci la video lezione dedicata proprio alla figura di Lady Jane Grey, protagonista di questo romanzo, però non mi ero dilungato più di tanto. Per cui adesso ne approfitto e parliamo, anche perché su questo romanzo c'è un bel po' di cose da dire e anche positive, va detto. Allora, L'innocente, che come titolo è un po' amorfo se confrontato con il suo titolo originale, ovvero Innocent Traitor, ovvero Traditrice Innocente o L'Innocente Traditrice, uscito da noi nel 2016 e infatti questa è la prima edizione, quella con la copertina con tanto di Sponda, ecco. In realtà questo è proprio il primissimo romanzo scritto da Alison Weir, scritto nel 2000, pubblicato in lingua originale nel 2005, quindi arrivato con noi in Italia dopo undici anni. Ebbene, di solito i primi romanzi hanno in sé un po' di aspetti acerbi, hanno un po' più di lati negativi se confrontati ai romanzi successivi, però, considerando che sono reduce dalla lettura degli ultimi romanzi scritti da La Weir, dopo aver fatto una breve rilettura veloce di questo romanzo, mi sono reso conto di una cosa. Ai suoi inizi La Weir veramente aveva un grandissimo stile, uno stile, una propensione che, a dire il vero, ho visto un po' allentarsi, se considero un po' le ultime sue opere, cioè se considero un po' con gli ultimi suoi romanzi, ho visto un certo suo modo di forzarsi, come se lei non avesse più tanta voglia, cosa che invece non c'è in questo romanzo. In questo romanzo c'è un grande entusiasmo, c'è proprio una gran voglia di mettersi alla prova e si vede anche per la scelta stilistica dell'autrice, che è completamente diversa da quella vista, ad esempio, fino ad ora nei romanzi delle sei regini Tudor. Se in questi ultimi romanzi lo stile scelto dalla Weir è quello della narrazione in terza persona, ma sempre dal punto, solo dal punto di vista della protagonista, qui abbiamo una narrazione in prima persona, ma ha più voci, quindi non è solo la protagonista, Lady Jane Grey, una voce narrante, ma sono tanti altri, il che è un bene. Io infatti mi ricordo che apprezzai tantissimo questa scelta perché mi permetteva di comprendere meglio le varie sfaccettature, i vari aspetti. L'unico difetto però, e qui si vede un poco l'essere un po' acerba dell'autrice a suo tempo, il fatto che a un certo punto le voci non si differenziavano, non è come nelle cronache del Giacere del Fuoco, dove ogni ponto-view ha un suo modo di parlare, di ragionare, di riflettere, di porsi, eccetera. Qui la voce, sebbene differenziato dai capitoli, da ogni capitolo che ci indica di quale persona stiamo ascoltando il pensiero, finiscono per avere un po' la stessa voce. C'è poca differenza tra le varie voci narranti, sono molto simili, certo. Esprimono concetti differenti, ad esempio per quanto riguarda il tema della fede, qui è molto presente il tema della fede che già abbiamo visto parecchio presente nell'ultimo romanzo della saga delle sei regine, ovvero quello su Catherine Parr, che per inciso, Catherine Parr è una delle voci narranti nella prima parte del romanzo. Infatti qui, se ancora non avete letto questo romanzo, se a Delaware avete letto soltanto i romanzi sulle sei regine, vi farà magari piacere ricontrare qualche vecchia conoscenza. Infatti qui abbiamo un capitolo solo purtroppo dal punto di vista di Jane Seymour e un bel po' di capitoli per tutta la prima parte di romanzo dal punto di vista di Catherine Parr, che è stato interessante soprattutto per vedere il modo in cui inizialmente l'autrice si era rapportata a queste due figure così diverse ma così complementari. Infatti l'ho detto nella saga delle sei regine, il romanzo su Jane Seymour e quello su Catherine Parr sembrano praticamente collegati come se quello su Catherine Parr fosse il sequel diretto di quello su Jane Seymour. È stato interessante vedere come lei si è approcciata a queste figure prima di giungere proprio a trattare loro espressamente. Jane Seymour, beh, è poco meno che una comparsa, lì lei rimane veramente poco, ma già ci sono i germi di quello che abbiamo visto nel... nel... scusate, un aereo che vola a bassa quota? Boh, strano, mamma mia, non siamo all'aeroporto di Capodichino, abbiate pazienza. Sì, ogni tanto avviene qualche... cioè, sono rimasto sconvolto io per primo perché non è che c'è un traffico aereo così... così ampio dalle mie parti, ma è così a bassa quota comunque. Allora, per ritornare, ecco, già però in quest'unico capitolo su di... dal punto di vista di Jane Seymour vediamo un po' quelli che sono un po' i germi che si sono visti, i semi che abbiamo visto... che ho visto maturati già nel romanzo su Jane Seymour, quindi il suo porsi... farsi molta autoanalisi, il suo continuo confronto con lo spettro sempre presente di Anna Bolena, eccetera, mi ha particolarmente stupito rivedere la Catherine Parr di questo romanzo, subito dopo aver letto il romanzo proprio su Catherine Parr, per vedere proprio una differenza abissale se la Catherine Parr del romanzo era, da un punto di vista psicologico, per quanto riguarda la fede, molto chiusa un po' troppo chiusa se confrontata come fu la Catherine Parr storicamente accurata qui invece è una Catherine Parr più storicamente vicina alla realtà, una che sì, segue la fede, riformata è una protestante convinta, però da un certo punto di vista sembra abbracciare un'idea molto erasmiana della fede, per lei ci può essere tranquillamente una convivenza tranquilla e non c'è da... è lontana da quel bigottismo che sia da una parte che dall'altra ti fa pensare ah tu non la pensi come me, allora finirai sicuramente all'inferno, ne sono convinto no, lei invece è molto alla mano, anche perché poi gioca molto anche il suo confronto con Lady Maria che in confronto a lei già è un po' più chiusa questa è una bella differenza, il modo in cui vengono affrontati questi due aspetti della fede quello protestante da una parte e quello cattolico dall'altro se la Catherine Parr di questo romanzo è una figura molto più vicina al nostro pensiero moderno quindi una che dice che alla fine sì, abbiamo le nostre fedi religiose però alla fine rimangono solo dogmi e dubito, e qui adesso sono io, Lusio, che vi parla da un punto di vista più umano e più eretico diciamo, io non penso che Dio se ne sta lì col blocnotes a controllare se quanti sacramenti riconoscevamo in vita abbiamo detto, abbiamo recitato le priere in latino oppure nella lingua nostra non penso che Dio si metta a fare il burocrata in paradiso questa è tutta una mentalità nostra siamo noi che siamo collegati ai dogmi anzi siamo noi che creiamo i dogmi e pensiamo che siano importanti ebbene Catherine Parr esula un poco da questa visione la figura di Maria qui, di Maria Tudor, la Maria prima Tudor la cattolica o la sanguinaria, come dir si voglia già qui, se consideriamo che siamo nel 2005 è già molto vicina a quella che è un po' una visione nostra che abbiamo di Maria una visione che anche dai biografi, dagli storici protestanti inglesi è stata un po' rivista al di là della sua leggenda nera quindi cercando di vederla da un punto di vista più umano attenzione, non vuol dire che la Maria presente in questo romanzo sia una Maria esente da colpe la Weir non minimizza mai le colpe che ha Maria e soprattutto che avrà in seguito che ci viene già annunciato che avrà e poi ne parleremo più approfonditamente nel romanzo di Romanzo Lady Elizabeth però cerca di farci comprendere meglio questa figura per certi versi tragica una donna che è stata vittima delle circostanze, dei suoi traumi delle condizioni avverse da un punto di vista politico e sociale e culturale per non dire religioso nella sua epoca non mancano i momenti in cui l'autrice cerca di farcela vedere più da un'ottica umana soprattutto quando lei da donna, da essere umano si rende conto di quanto la carica di regina che ti costringe a prendere decisioni che tu in condizioni normali non ti azzarderesti mai a prendere ti costringe ad annullare la tua umanità quindi appunto anche l'onere della corona che è una cosa che in Inghilterra mi sa che è ancora molto sentita o comunque con la ormai defunta regina Elisabetta II è stata una cosa ancora molto presente penso che alcuni passaggi in cui Maria parla e ragiona sul concetto di regalità e umanità forse non erano tanto distanti dalla mentalità della regina Elisabetta II ma queste sono solo nostre congetture perché ovviamente da figlia tradizionalista della corona dell'istituzione monarchica inglese anche la regina Elisabetta II è una che ha almeno pubblicamente annullato il suo lato più umano in funzione della sua carica di regina ma penso che non penso che lei fosse fatta di ghiaccio penso che abbia avuto anche lei in quanto essere umano dei momenti in cui magari si è posta questo pensiero poi per carità non mi azzardo assolutamente a dire cosa pensasse o non pensasse la regina Elisabetta assolutamente qui alzo le mani sono solo mie congetture perché penso che noi siamo sempre esseri umani anche quando ci mostriamo solo per la carica che ricopriamo e quindi da questo punto di vista poi è plateale sempre per chiudere un attimo il discorso su Maria questo suo aspetto umano ci fa capire quanto lei anche in quanto cattolica cerchi comunque inizialmente di fare i suoi quelli che sono un po' gli aspetti più umani del cristianesimo del cattolicesimo ovvero la pietà quindi una sorta di tolleranza che in effetti Maria prima nei primi anni del suo regno concesse la libertà di culto quindi non perseguitò i protestanti fu soltanto quando i protestanti iniziarono a ribellarsi apertamente perché la tolleranza non era una cosa ben vista in quell'epoca non potevi essere un sovrano abbracciando la tolleranza per quanto potevi esserlo di conseguenza solo in quelle circostanze iniziarono a Maria iniziò a dare fuoco alle polveri o meglio ai roghi e si vede quindi nel suo approcciarsi a Jane che è sua cugina che per età potrebbe anche essere le figlie perché hanno quasi vent'anni di differenza Maria ha quasi 37 anni mentre Jane ne ha a malapena 16 quindi vista l'epoca potrebbero essere anzi potrebbero quasi essere madre e figlia anzi la madre di Jane sulla quale bisogna aprire una parentesi a parte è coetanea se non ricordo male di Maria quindi hanno la stessa età quindi ci sta anche Maria che ci viene ricordato più e più volte quanto lei di base soffra per non essere sposata per non avere dei figli per non avere un suo nucleo familiare la vediamo questo suo vediamo questo suo approcciarsi a questa sua cuginetta molto più piccola di lei ma mentalmente molto più matura forse troppo matura a una maniera quasi secondo me dannosa e tentare di aiutarla in tutti i modi venendola incontro quanto più vuo quanto più le è possibile salvo poi vedersi ricettare in faccia tutto quanto che le offre Maria offre a Jane tutte le occasioni per salvarsi quando arriveremo al dramma finale di questo romanzo che racconta tutta la vicenda di Lady Jane ma ha come fulcro centrale ovviamente i nove giorni di regno di Jane in cui durante un complotto di matrice protestante si tentò di spodestare Maria privandole togliendole il trono per incoronare la protestante ultrapuritana aggiungerei io Jane Grey ovviamente in un'Inghilterra che ancora non era protestante un'Inghilterra ancora molto legata al cattolicesimo di conseguenza ma ancora molto legata a Maria e quindi un complotto un'impresa già persa in partenza e quindi vediamo in più occasioni Maria che in maniera non solo umana ma comunque sensata riconosce che questa sua cuginetta che è poco più di una bambina per quanto intelligente mentalmente matura sia ma rimane comunque una bambina e lo dimostra in più di un'occasione anche quando si sforza di voler sembrare matura più Jane vuole sembrare matura più di lei vediamo il suo aspetto quasi infantile mi verrebbe da dire e ci prova ad aiutarla ma si scontra con l'interassigenza tutta tipica dell'adolescenza che caratterizza la figura di Jane la figura di Jane Grey che qui è ben lontana dalla figura che di solito viene proposta nella cultura inglese ora Lady Jane Grey è una figura molto amata molto romanticizzata dalla cultura inglese lei è vista come una martire è praticamente venerata come una santa e una martire del culto protestante sebbene i protestanti ci abbiano fatto una menata incredibile a noi papisti per il culto dei santi eccetera però pure loro hanno i loro santi è questa ennesima prova di quanto che convince la mia teoria del fatto che di base noi aneliamo sempre a un paganesimo di fondo anche noi cattolici ragazzi siamo molto pagani cos'è il culto ai santi il culto della Vergine Maria sotto tanti aspetti se non una forma residua di un paganesimo che noi ci portiamo proprio scritto nel nostro DNA io infatti lo dico sempre sarà che ho fatto il liceo classico ma se rimango attaccato un poco alle tradizioni cattoliche è anche perché non riesco a fare a meno di questo paganesimo classicheggiante che si vuole a forza camuffare da monoteismo ecco ho spiegato un poco anche la mia visione religiosa perché ho notato che in molti altri video a seconda dei casi vengo accusato di essere un cattolico bigotto in altri casi vengo accusato di essere un ateo come se fosse come se essere l'uno o l'altro fosse l'equivalente di un'accusa c'è gente pace ognuno la pensa come vuole ok ecco questo è un discorso che alla nostra lady jane di questo romanzo non sarebbe piaciuto lady jane mi avrebbe schifato per questo mio modo di ragionare perché ragazzi perché al di là del dipingerla come una figura romantica angelica santificata ecco la weir ci vuole mostrare ci mostra un'immagine di jane molto vicina a quella che è un poco la fase tipica adolescenziale ora siamo tutti quanti stati adolescenti quando quella fase in cui noi siamo straconvinti delle nostre convinzioni non vogliamo scendere a compromessi non vogliamo fare autocritica non possiamo non vogliamo mettere in discussione ciò che per noi sono le nostre discussioni solo mi pare l'hanno detto comunque il cervello non smette di formarsi prima dei 26 anni infatti guarda caso noi iniziamo un poco a maturare veramente dopo i 25 anni quando iniziamo un poco a formarci una mente molto più critica ed è questo quello che manca in jane jane che viene cresciuta fin da bambina come un'accesa protestante fin quasi al limite del puritanesimo ecco e mi fa molto ridere il fatto che lei parli sempre male dei cattolici cioè anche se trova cattolici che si comportano bene con lei lei non fa altro che pensare sono molto gentili con me peccato che siano cattolici che quindi bruceranno all'inferno senti tesorino ma anche un po' meno e abbi pazienza per ritornare al vecchio discorso io non credo che Dio stia tanto a farci la cronostoria di quanto di quando andavamo al catechismo almeno mi immagino così poi per carità non lo so non so nemmeno se c'è vita dopo la morte è tutta una è tutta un'ipotesi poi ognuno però umanamente io la penso in questo modo e non la pensa così Jane Jane che rimane intransigente fin quasi al limite dell'antipatia infatti non vi aspettate di trovare una protagonista simpatica anzi Jane è per certi versi molto antipatica ma non antipatica nel senso quanto mi senti antipatica è antipatica come può essere antipatica un adolescente che si pone in un certo modo è convinta di avere la verità in tasca vabbè come siamo stati tutti quanti noi durante l'adolescenza anche io sono stato uno che era convinto di avere la verità in tasca io infatti se avessi la possibilità di incontrare il me di 15 16 anni mi darei proprio una due paia di sberle me le darei volentieri col senno di poi se ripenso anche a tutte le brutte figure che ho fatto quando mi sono trovato a interloquire con persone molto più preparate di me e cosa che avviene anche con la Jane di questo romanzo che però non si pone come ho detto non si pone mai dei dubbi e questo ce la rende forse un po' più ostica ma al tempo stesso realistica io infatti pur trovandola poco simpatica l'ho comunque trovata realistica perché mi sono ritrovato molto in lei io ho detto cavolo è antipatica però a 16 anni anch'io ero così come lei cioè mi ponevano delle domande ragionevoli io però mi chiudevo occhio e orecchie facevo la 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 no non ti sento praticamente Jane fa così quando provano c'è ad esempio in una parte in cui il dottor Fechenham che è un prete cattolico che Maria manda a Jane per convertirla per farla convertire al cattolicesimo in modo così da evitare la condanna a morte ebbene è uno dei passaggi che più mi sono rimasti impressi di questo romanzo padre Fechenham le chiede semplicemente guardi ma scusami figliola mia cara ho capito sei molto intelligente lo riconosco ma ma secondo te dopo 1500 anni di storia in cui la gente è sempre stata cattolica automaticamente tutte queste tutte queste milioni migliaia 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 di esseri di uomini donne bambini anziani che hanno vissuto come cattolici automaticamente sono tutti quanti finiti all'inferno solo perché a un certo punto è venuto fuori Martin Lutero dicendo no le cose così non si fanno bisogna farle in maniera diversa dai ma obiettivamente ragionando ma secondo te ti sembra normale e Jane cosa risponde a questo non risponde finge di non aver sentito appunto perché consapevole probabilmente lo capiamo anche dal sottotesto che rispondere vorrebbe dire mettere in gioco il suo pensiero cosa che per lei è inaccettabile è probabilmente se Jane fosse stata più grande più matura se invece di avere 16 anni avesse avuto 20 21 22 anni probabilmente sarebbe stata maggiormente riflessiva sarebbe stata più disposta al dialogo probabilmente sarebbe stata anche così come sua cugina Elisabetta sarebbe stata anche molto più astuta da un certo punto di vista e avrebbe detto ok sai cosa piego la testa dico sono cattolica però intanto mi tengo la posta e continuo ad essere protestante nel mio cuore cioè alla fine non avrebbe fatto niente che non hanno fatto tante altre persone della sua epoca la stessa Maria quando venne quando venne obbligata da suo padre ad a rinnegare la sua fede cattolica per riconoscere la chiesa anglicana pure lei fece così formalmente rinunciò ma rimase cattolica nel cuore così come avrebbe fatto poi anche Elisabetta sotto il regno di Maria ecco però Jane qui è ancorata al sempre per citare padre Fakenham che è proprio il mio spirito guida in questo romanzo rimane ancorata al dogmatismo adolescenziale infatti aspettate se lo trovo voglio leggervi questo passaggio che secondo me è molto interessante e riassume alla perfezione quella che è un po' il proprio personaggio di Jane allora se lo trovo allora era 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 vediamo un po' se lo trovo no stava più indietro mi sa di sì ok allora allora addosignamente me lo dovevo segnare come pagina comunque vabbè dai non vi faccio Non voglio perdere altro minutaggio, quindi dico cordiamente che Feknam dice io vi capisco perché voi siete animata dal dogmatismo tipico dell'adolescenza, io sono un vecchio, io ho vissuto la mia vita e ho vissuto abbastanza da capire che comunque bisogna alle volte mettersi un po' in discussione se stessi. E questa è un po' anche la differenza, è anche un po' ciò che riassume il dramma di Jane, il fatto di essere troppo giovane, è stata troppo giovane ed è stata una pedina in mano a persone più astute, più prive di scrupoli di lei e quindi è stata facilmente manovrabile, è stata anche vittima delle sue convinzioni religiose, è stata vittima proprio del suo dogmatismo adolescenziale, ecco, ed è molto triste questo, questo forse è il dramma ultimo di Jane. Non posso chiudere questa recensione senza prima parlare di un altro personaggio molto interessante, ovvero Francis, la madre di Jane, che è un personaggio che di solito viene quasi sempre ignorato ma che secondo me è molto interessante. Francis Brandon era la nipote di Enrico VIII in quanto figlia di Mary, Mary Tudor, la sorella minore preferita di Enrico, la Mary che era rimasta vedova del re di Francia e che poi sposò il migliore amico di Enrico, Charles Brandon. Bene, Francis non era l'unica figlia di Mary e Charles, loro ebbero anche due figli maschi che purtroppo morirono insieme durante un'epidemia della febbre del sudore, se non ricordo male, e rimase soltanto questa figlia femmina e siamo ancora proprio nell'epoca in cui la questione dell'erede maschio che Enrico VIII stava cercando, cambiando di volta in volta moglie su moglie, era un po' il centro di tutto. Noi diamo per scontato che sia una cosa che interessava principalmente Enrico VIII ma la figura di Francis ci fa capire quanto l'assenza di un figlio maschio fosse una cosa che comunque era molto sentita in generale in ogni famiglia. Lo riconosce lei in quanto unica figlia femmina di due genitori che avevano perso i figli maschi e a sua volta poi diventata madre soltanto di figlie femmine, l'ultima delle quali Mary addirittura è nata a Gobba, che per l'epoca era un handicap spaventoso. E di conseguenza Francis ci viene presentata come una figura indelenita, una donna che è cresciuta con l'idea della superiorità maschile a livello genealogico e che quindi risente molto della presenza di queste figlie femmine, in particolare di questa primogenita, che è una delusione sotto tutti i punti di vista perché è l'esatto opposto di quello che per lei dovrebbe essere una figlia femmina, ovvero una figlia sottomessa al volere dei genitori, accondiscendente, invece si ritrova una bambina troppo cresciuta che pensa di essere un'adulta, che è fissata unicamente con lo studio, con i libri, eccetera, che si ribella ai suoi genitori quando questi vogliono farla sposare, eccetera, eccetera. Una figlia nella quale poi paradossalmente trova anche un modo per riscattarsi quando in varie circostanze fino all'ultima fatale pensa di poterla sfruttare mettendole una corona sulla testa e quindi porla su uno dei troni più importanti d'Europa. Il percorso di Francis è molto interessante perché è forse il personaggio che più evolve lungo il corso della narrazione. Lei parte come una sorta di matrigna cattiva di Biancaneve o di Cenerentola che a mano a mano analizza meglio la situazione, ne approfitta a suo modo salvo poi comprendere che si stanno dirigendo tutti quanti verso un disastro, un disastro nel quale potrebbe farne le spese più di tutti anche questa figlia che lei non ha mai amato, ma la quale comunque si sente comunque in un certo qual modo legata con tutti i discorsi sulla maternità che si possono fare, ma l'analisi che si fa da questo punto di vista sul personaggio di Francis è molto interessante. Il personaggio di Francis, proprio perché è un personaggio che di solito viene poco trattato, è uno di quei personaggi dei quali quasi nessuno sa niente, pur sapendo un po' tutti i suoi dati, i dati della sua storia, ma rimane molto interessante. Secondo me è forse il personaggio più interessante, fra tutte le voci presenti in questo romanzo, la sua è forse la più interessante di tutto il libro. E cos'altro dire? Beh, non penso di poter dire altro. Questo è un romanzo che io vi consiglio, ve lo consiglio. C'è un po' qualche difetto da primo romanzo, da un romanzo d'esordio, però nemmeno tanti, anzi, devo dire, io ho trovato più difetti negli ultimi romanzi scritti dalla Weir che in questo. È molto ben condensato, il fatto che ci siano più voci narranti rende la lettura molto più animata, molto più viva. E penso che l'autrice comunque abbia tenuto in mente un po' qualche film mentre scriveva. Infatti ho notato alcune scene che ho ritrovato in film proprio su Lady Jane, in particolare qua. Ma questi DVD sono un piccolo spoiler del prossimo video, perché sì, ho deciso di approfittare di questa recensione anche per fare finalmente un videoconfronto sui due film che sono stati realizzati sulla figura di Lady Jane, ovvero Destino di Sangue e Lady Jane. E se ve lo state chiedendo, sì ragazzi, questa qui è una giovanissima Elena Bonham Carter. Sì ragazzi, proprio lei, la nostra Bellatrix Lestrange, la nostra Princess Margaret e tutti gli altri personaggi che lei ha interpretato magistralmente. Ma ne parleremo nel prossimo video, perché avrò tanto da dire su questi due film. Intanto io concludo qua il video. Vi consiglio, se ve lo consiglio caldamente, lo si trova ancora in un'edizione, mi pare, non è nemmeno tanto economica, perché ho notato se le nuove edizioni costano 14 euro, questa prima edizione costa 15,90, quindi capite ragazzi, nel 2016 i libri costavano veramente di meno in confronto ad adesso, ma vabbè, è la crisi economica. Quindi comunque ve lo consiglio, una buona lettura. Se vi interessa, soprattutto per scoprire una figura poco nota, è un libro che fa per voi. E io quindi concludo qua il video. Spero che vi sia piaciuto. Lasciatemi un like se così è stato, commentate e ditemi la vostra se conoscevate questo romanzo, se l'avete letto oppure non l'avete letto, cosa ne avete pensato se l'avete letto. Iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video, mettete mi piace alla mia pagina Facebook, seguitemi anche su Instagram sempre se volete. Vi ricordo che se volete sostenere il mio canale vi lascio la mia watch list di Amazon qui giù nell'info box e noi ci rivediamo al prossimo video. E ciao!